tra l'altro qui abbiamo collegato Francesco Samorè che è salutario generale della Fondazione e ringrazio anche tutta la Fondazione per la collaborazione e la realizzazione di questo format in questo ciclo di incontri e Piero Bassetti ovviamente che è il presidente sia di Globus et Locus che di Fondazione Giannino Bassetti e ispira col suo pensiero entrambe queste realtà. Poi ovviamente un grande ringraziamento ai ragazzi del Corso di Design Sistemico e Politecnico di Torino che hanno ideato e realizzato questo incontro insieme ai coordinatori di Generazione a Confronto, Vincenzo Politano e Cecilia Gaballo e i nostri co-discussant che ringraziamo per aver accettato l'invito a partecipare all'incontro di oggi con il professor Sabrizio Valpreda, architetto e docente di design del Politecnico di Torino e Lulanda Romano che è esperta appunto di politiche pubbliche, mediazione dei conflitti e democrazia partecipativa e fondatrice di avventura urbana. Infine l'ultimo grande ringraziamento a Fondazione Luigi Einaudi che ci ospita in questa cornice meravigliosa e grazie anche al Centro Altre Italia di Globus et Locus che ha sede qui presso appunto la Fondazione Einaudi e che ha collaborato alla realizzazione di questo evento. Io non vi rubo altro tempo, adesso darei la parola a Vincenzo Politano che ci introduce nel vivo dell'incontro. Grazie a tutti. Grazie Libia. Buon pomeriggio, eccoci per minuti al secondo appuntamento di Generazioni a Confronto. È un format che è nato, in realtà è abbastanza giovane, è nato un po' il tempo fa dalla volontà di Fondazione Bassetti, Globus et Locus, vedo Alessandra tra il pubblico, sono fortemente caldeggiato anche da Alessandra Girardi e sostanzialmente questo format predede una regola molto semplice, due generazioni che dialogano insieme. Dialogano insieme, si confrontano su dei temi che riguardano la contemporaneità e quindi ci ripongono di fronte delle grandi domande lungo le quali crediamo che possa essere giusto interrogarci insieme. L'appuntamento di oggi ha come tema appunto la città open, uno spazio tra il locale e il globale. Ora, nel titolo ci sono già abbastanza elementi, c'è la parola open che ci illustrerà, profondirà un po' meglio il professor Fabrizio Valpreda, c'è il tema delle città, della messa a terra di questo concetto di open che in in qualche modo proverà a illustrarci, a appunto spiegarci un po' meglio la dottoressa Romano. Più che vedere i nostri interlocutori senior come dei discussant in cattedra, li vediamo come degli amici con cui chiacchierare, quindi loro vi lanciano delle provocazioni e voi siete liberissimi di provocare loro con delle riflessioni. Bassetti, il presidente Piero Bassetti, accoglierà appunto questi stimoli, anche lui a sua volta provocherà il discorso in una direzione piuttosto che in un'altra. Lascio subito la parola a Fabrizio, grazie. Grazie, buonasera a tutti e tutti. La presenza dei miei ex studenti della magistrale qua è piuttosto necessita direi e questo mi porta a dire che il design sistemico è più intervasivo, occupiamo spazi lasciati liberi dagli altri. Rispetto al tema di questa sera, in termini di libertà, di spazi aperti, da questo punto di vista ce ne sono tanti. Qui vediamo alcuni esempi dei risultati del corso che tengo alla magistrale degli ultimi due anni, però ci tengo a sottolineare che questi esempi sono la punta di un iceberg. Non sono qui a parlare di lampade e quindi vi tranquillizzo già subito da questo punto di vista. Nonostante, in quanto architetto votato al design di prodotto, mi occupi personalmente e professionalmente di design di prodotto. Però all'interno di una laurea magistrale di design sistemico che fonda i principi del suo lavoro sui temi della sostenibilità, della accettabilità da parte dell'ambiente, del pianeta, dell'essere umano, in quanto a volte anche parassitario rispetto a questo ambiente. Quindi la ragione per cui sviluppiamo questi oggetti è pretestuale, ovvero è un pretesto per fare una sperimentazione un po' diversa da quella che è il classico design che ci si aspetta, da un design che genera un'idea meravigliosa, in più sul tovagliotto, al fortuna, però genera un'idea meravigliosa, poi qualcuno si occupa di ingegnerizzarla, produrla in qualunque punto del mondo, indifferentemente, e quindi anche dall'altra parte del globo, in enormi quantità, con evidenti criticità che tutti quanti vengono infatti. Allora, siccome a questo si aggiunge anche il problema della proprietà intellettuale, da un po' di anni, più di un decennio, ci occupiamo, mi occupo di open design, inteso come un processo in cui il designer è un soggetto di una rete. Il principio è quello di progettare degli oggetti, perché il design fa anche, ancora, per fortuna, non lo so, questo, però con un approccio rispetto alla produzione, al posizionamento di questi processi, completamente diverso. Parlavo prima di spazi vuoti, questo è uno spazio drammaticamente vuoto, ancora adesso, e ancora adesso, l'abitudine industriale di produrre alla vecchia maniera, come dicevo prima, è ancora estremamente radicata, per tutta una serie di motivi legati ai costi, alla convenienza, ai profitti, eccetera. Quindi, questo approccio nasce dall'idea che, da un lato, si possano sfruttare nuove tecnologie di produzione ad alta accessibilità, che tutti e tutte possono utilizzare ovunque nel mondo, senza gli investimenti infrastrutturali necessari ad un approccio tradizionale, quindi da grandi aziende, lo stoccaggio, i trasporti, eccetera, eccetera. Questo permette, ovviamente, una serie di vantaggi innegabili rispetto alla produzione stessa. L'altro vantaggio è che c'è un forte senso di localizzazione. Questi percorsi di progettazione e produzione, potendo essere adottati in luoghi di dimensioni contenute anche in città, perché le tecnologie, queste tecnologie di cui stavo parlando, della fabbricazione digitale, stampa 3D, taglio laser, piuttosto che non anche ancora la produzione con le mani, la realizzazione degli oggetti, quindi con tecnologie analogiche antiche, ma ancora molto valide e supportate da queste tecnologie. permette quindi di, questo processo permette di adottare spazi della città che sono stati abbandonati o che magari devono essere riposizionati in termini di uso, ne sia ad esempio il Fab Lab Torino, che è uno dei luoghi simbolo in questi percorsi, che insiste nella zona ex-industriale vicino a Corso Dante, proprio di fianco al cavalcavia di Corso Dante, dove gli spazi industriali dedicati alla logistica delle ferrovie in un tempo sono abbandonati sostanzialmente. Non c'è necessità di grandi infrastrutture per questi luoghi. L'altro vantaggio è la partecipazione, ovvero il fatto che chiunque è in grado di accedere a queste tecnologie, a questi spazi, in modo aperto e trasversale, anche in assenza di specifiche competenze, perché questi posti, questi luoghi, contengono le competenze necessarie. Queste competenze sono estremamente più eterogenee di quanto non siano le competenze presenti nel mondo industriale tradizionale, dove c'è una gerarchia, un modello decisionale molto stratificato, molto verticalizzato, in cui c'è qualcuno che decide, qualcuno che agisce affinché ci sia qualcun altro che produce. Cioè, poi c'è qualcuno che trasporta, qualcuno che vende e via così. Invece in questo caso si tratta di una produzione molto più dedicata all'esigenza specifica. Ho bisogno di un oggetto e questo oggetto lo realizzo. Abbiamo bisogno di dieci di questi oggetti e questi dieci oggetti li realizziamo, magari non tutti uguali, magari profilati a seconda di. Io ho un caso tipico che porto anche in aula e che i miei studenti conoscono molto bene è quello dell'Islanda, una regione del mondo piuttosto remota con difficoltà di approvvigionamento di risorse e attorno all'inizio di questo millennio ha cominciato a sviluppare l'uso di questi laboratori, in questi luoghi, progettazioni e realizzazioni in modo massiccio. Tenete conto che è un'area geografica grande quanto il nord Italia, diciamo fino all'Emilia-Romagna come chilometri quadrati e la popolazione è di circa 350 mila abitanti mal contati, una cosa di questo genere. Quindi con una densità di una popolazione estremamente bassa, una condizione ambientale estremamente difficile, trasporti anche difficili anche internamente, soprattutto nella stagione invernale. E quindi se io ho bisogno di una sedia e la ordino perché viene prodotta in Cina, questa sedia deve arrivare dalla Cina. Allora loro hanno fatto un ragionamento diverso. Quindi la dimostrazione che questa localizzazione opposta alla delocalizzazione sia importante lo dimostrano i casi reali. e come ultima cosa vorrei sottolineare un aspetto di tutto questo fenomeno. Poiché non c'è un'abitudine diffusa a dare attenzione a questi percorsi proprio perché il sistema tradizionale di produzione a cui siamo abituati da almeno un paio di secoli e mezzo, con la rivoluzione industriale e con la diffusione del concetto di proprietà intellettuale, altro tema importante. Queste cose vanno insegnate, vanno sperimentate, cioè ci si deve sporcare le mani. Non tanto in un solo dal punto di vista teorico, per cui portare Stallman quale esempio è un'ottima idea, fantastico, però occorre poi arrivare a questi risultati per riuscire a comprendere tutto il percorso e capire che c'è questa possibilità, che non è una possibilità primariamente tecnologica, ma è una possibilità di processo in cui io condivido con altri ciò che sviluppo, altri possono modificare ciò che sviluppo, diventano in parte non proprietari, ma detentori dei diritti su quest'idea, rispetto al principio famoso che viene citato molto spesso, tale per cui se siamo in due e abbiamo ciascuno una mela e ci scambiamo una mela, alla fine continuiamo ad avere una mela a testa. Se invece abbiamo un'idea e ciascuno dei due ha un'idea e scambiamo quest'idea, alla fine abbiamo due idee a testa. Però queste idee devono poter essere identificate, determinate, devono poter essere sfruttate dal punto di vista della produzione in modo libero, da cui l'open design, di cui ci occupiamo nel corso. Da questo punto di vista è fondamentale chiarire il fatto che la proprietà di cui si sta parlando, delle idee, non è sinonimo in alcun modo di anarchia rispetto ai processi, rispetto alla attribuzione dei diritti. Ci sono tutta una serie di strumenti per poter determinare questi aspetti, che sono altrettanto validi e solidi rispetto alla brevettazione tradizionale e che sono legalmente riconosciuti e che permettono proprio di sviluppare questi processi che sono in fatto oristici perché permettono la crescita e lo sviluppo in autonomia di percorsi nuovi non determinati da regole a mente, da qualcuno che possiede l'idea e decide chi e come e per quanto denaro e per quanto tempo sfruttare queste idee. Grazie mille Fabrizio. Grazie. Ci tenevo a specificare che quando Fabrizio parla di prodotti esposti in questa sala, lo dico perché è collegato, alcuni ragazzi che hanno lavorato con noi alla progettazione di questo appuntamento, hanno portato appunto delle lampade costruite proprio in open design, costruite da loro e qui c'è una piccola esposizione, comunque abbiamo scattato delle foto, poi avremo premura a condividerle anche con chi è collegato online. Passo ora la parola a Yolanda. No, no, ti sento, è importante portare la voce. Sì, sì, ecco. Anzitutto benvenute, benvenuti a questo incontro, speriamo di essere sfidati. Io e Fabrizio perché a me piace moltissimo avere a che fare con i giovani. Parto dall'analogia tra l'open design di cui ha parlato Fabrizio Valprega e quello di cui mi occupo io, mi occupo di progettazione particolare e mediascione dei conflitti pubblici. Sapete di che cosa si tratta? Qualcuno ne ha sentito parlare? Però non tanto bene, forse qualcuno sì. Che cos'è l'analogia tra queste due pratiche? Anzitutto è una modalità di progettazione che è una divisa, quindi qui non c'è il demiurgo, l'architetto, l'ingegnere e poi i destinatari di un prodotto, nel suo caso, nel mio caso, di uno spazio, della trasformazione di uno spazio e di un servizio della città. E poi c'è un'apertura a far considerare un esito di quel prodotto, nel caso del design di proprietà intellettuale condivisa, nel caso della progettazione partecipata ai due luoghi della città, abbiamo una condivisione di responsabilità sulle decisioni. che cosa intendo? Che, mentre nell'open design, quello che produciamo è una lampada, per esempio, nella città, se noi ci collettiamo in una prospettura di città, noi siamo di fronte a uno spazio comune, abitato collettivamente da moltissime comunità e anche da moltissimi diritti. Vediamo coloro che ci vivono, coloro che ci lavorano, che ci studiano, coloro che transitano attraverso una storia città, coloro che la visitano, e possiamo andare avanti all'infinito. Quindi abbiamo tante popolazioni, ciascuna, queste sono le proprie esigenze. Pensate semplicemente la mobilità urbana, l'esigenza di chi vuole andare a piedi, di chi vuole andare in bicicletta, oppure con i nuovi mezzi della mobilità condivisa, voi usate il monopattino, siete abituati abbastanza, apposta, no? Pensate che il monopattino è una rivoluzione nell'uso dello spazio urbano, perché vado sui marciapiedi, vado sulla pista ciclabile, vado sulle strade corrabile, sto invadendo lo spazio che prima era di un altro. È vero o no? Non parliamo dei parteggi, dei monopatti o dei motorini elettrici. Quindi, lo spazio della città è uno spazio, diciamo, per definizione, con il peso, abitato da conflitti, attuali e potenziali. Perché? Perché quando si vuole cambiare qualcosa, nello spazio della città, voi non eravate ancora nato, ma forse neanche io, non mi ricordo, tantissimi anni fa via veribaldi, avete presente via veribaldi a Torino, non so se sia per tutti i torinesi, parlo anche per chi è collegato e la via pedonale per eccellenza. Era una zona ad alto traffico, così come per salitorio. Quando fu deciso dall'amministrazione comunale di chiudere via veribaldi alle auto, ci fu un'enorme protesta da parte, soprattutto dei commercianti, ma anche dei cittadini. Ci passava addirittura il tram, per non parlare di Piazza Duomo a Firenze, che quando fu deciso di chiederla c'è stata una sollevazione popolare, ma adesso, nel 2024, immaginare che Piazza Castello o Piazza Duomo a Firenze siano attraversati degli auto sembra la spela, no? Perché la nostra cultura è cambiata. Quando però si decide di fare delle modifiche dello spazio urbano, sia a livello di spazio pubblico, sia a livello di edifici, di case, non parliamo di impianti o infrastrutture che servono a tante persone, ma le più conseguenze riguardo le sue coppie, pensate alle infrastrutture, le ferrovie, gli aeroporti, le vighe e via dicendo. Gli inceneritori per rifiuti, quello che è successo con gli scoppie della centralità elettrica, sono impianti che modificano nello spazio urbano e quindi è necessaria una mediazione per coniugare tutti gli interessi, altrimenti è molto difficile realizzare delle trasformazioni nello spazio urbano. Allora, questa famiglia di metodi che si utilizzano per decidere per esempio dove collocare un inceneritore o come modificare l'utilizzo di una piazza o come ripodificare un quartiere degradato. io adesso per esempio mi sto occupando delle vele di scampia chi non conosce le vele di scampia ecco, lavorare in uno spazio come le vele di scampia o il dronx di San Giovanni a Taduncio Napoli se non lo si fa coinvolgendo gli abitanti ma non si entra neanche. Cioè il taxi mi dice porta. Io non mi muovo tranquillamente alle vele perché ho fatto amicizia con il comitato di quartiere tre cose tranquille. Allora la domanda per voi è se queste pratiche che comunque in Italia sono molto sviluppate soprattutto a partire dagli ultimi 30 anni molti di voi ne hanno visto solo l'ultimo pezzo né siete a conoscenza siete per esempio in grado di dirmi se ci sono degli eventi che vi vengono nel mente di trasformazioni urbane che sono state realizzate in modo condiviso insieme ai cittadini e alle cittadine ai pubblicati di quartiere alle scuole ai commercianti e a tutti quelli che in gioco si chiamano portatori di interesse c'è coloro che hanno in mano la sabosa mela che sarebbe la posta in gioco io voglio uno spazio dove portare i bambini a giocare io voglio uno spazio anziano e anziano dove non sento i rumori dei palloni che giocano io automobilista voglio usare lo spazio per parteggiare e questi bisogni entrono e ci vuole qualcuno che le mette in sé partendo in mente qualche esempio o ha partecipato a sentire parlare di questa possibilità ecco questo è molto interessante perché sono pratiche molto utilizzate ormai ma molto poco conosciute prima il presidente Bassetti mi diceva ma come la mettiamo col potere vi faccio un esempio come la mettiamo col potere esiste una legge in Italia io e altri esperti abbiamo lavorato molto per far introdurre in Italia questa legge si chiama il dibattito pubblico sulle grandi opere che dà il diritto a tutti voi di essere consultati e dire la vostra quando si realizza una grande opera pubblica una grande opera pubblica intendo al di sopra di una certa solda di costo o di dimensioni stiamo parlando circa di 300-400 milioni di euro però un'opera pubblica può essere uno stadio può essere l'abbiamo fatto sullo stadio di Milano adesso è stato fatto sullo stadio di Roma può essere una ferrovia può essere una centrale elettrica questa legge dice che è obbligatorio che il proponente prima di fare quel progetto si confronti con la collettività siete corretti di questa esiste dal 2000 nel ciocco non la fanitissima pochissimi la conoscono allora questa legge conferisce un potere ai cittadini ai comitati di cittadini tant'è che il dibattito pubblico sullo stadio di Milano stadio dell'intero del Milano il comune di Milano non aveva nessuna intenzione di farlo perché era dubbio se fosse un'opera pubblica o meno perché viene realizzata tutta la squadra che sono due delle squadre ma sull'area del tribune e un comitato di cittadini si è costituito per rivolgersi all'inistitore delle infrastrutture e chiedere il dibattito pubblico che è stato per il concesso quindi un diritto a contare le decisioni che possiamo esercitare però per far questo dobbiamo conoscere quindi mi avvio a conclusione la domanda per voi però prima di farvi questa domanda vi voglio dare un'immagine che non posso proiettare perché non ci siamo organizzati con le slide ma con una chiacchierata ma basta che voi andiate su vostro cellulare e digitate allegoria del buono e cattivo governo di Angro Giorgio Lorenzetti che è un dipinto un affresco del 1388 credo meraviglioso secondo me perché ed è tra l'altro afflisso all'interno dell'antico palazzo del comune di Siena che è stato il primo comune in Italia avevano sfattuto quindi la città per definizione se voi zoomate vedete che in questo quadro ci sono tante figure le figure dei notabili le figure di chi governa la città il buono il cattivo nella parte dei cittadini se voi zoomate vedete che tutti i cittadini sono collegati da una cordicella ed è la parte del quadro in cui si parla del buon governo cioè della buona gestione della città i cittadini sono tutti collegati da una cordicella questo significa che se i cittadini collaborano discutono si parlano costruiscono come si può costruire una lampada insieme si può costruire una piazza una serie di strave un servizio delle migliori scuole io vi sto occupando delle scuole da 0 a 6 anni con il comune di Torino abbiamo coinvolto centinaia di insegnanti ecco se questa cordicella viene utilizzata le decisioni e la vita delle città saranno migliori e saranno più a bordo e quindi vi lascio con questa domanda voi che siete giovani che conoscete le potenzialità con le app dell'intelligenza artificiale che cosa si potrebbe fare e in quelle circostanze possiamo usare questa cordicella che per noi che siete del nuovo millennio sarà una cordicella virtuale potrebbe essere un'app potrebbe essere un network potrebbe essere qualunque altra cosa mi vengono in mente delle idee su come mettere in pratica questo buon governo grazie Yolanda ora arriva il bello nel senso che noi abbiamo ascoltato un intervento di Fabrizio un intervento di Yolanda che hanno aperto su degli scenari hanno lanciato delle suggestioni hanno fatto degli approfondimenti ora quello che interessa a noi è non tanto portare alla luce una dissertazione di stampo accademico una riflessione per forza profonda in un determinato in una determinata direzione o in un'altra direzione ma mi interesserebbe cogliere appunto questi stimoli queste domande che ci hanno posto sia Fabrizio che gli Yolanda e cercare di lanciare su qualcosa che a noi interessa rispetto a questo tema rispetto a questo questo argomento quindi lascerei proprio a voi la parola allora io vabbè ho seguito con il professore ho fatto anche la fase sul tema dell'open design e niente quindi mi sono appassionato alla tematica e mi ero chiesto appunto come poterla portare sulla città perché per noi appunto è sempre stato un pretesto quello del prodotto l'obiettivo poi finale era quello proprio di progettare e coprogettare comunità attive e partecipativi alla fine quello è l'obiettivo riguardo al tema del potere mi è venuto un po' in mente che il principio dell'open design è quello di dare potere agli altri appunto è proprio di dare il potere agli altri di saper fare le cose più che di appunto condividere la tecnologia in spazi fisici come il makerspace o quant'altro quindi spazi effettivamente fisici della città il focus principale poi almeno a parer mio potrebbe portare l'open design è quello di saperle poi utilizzare effettivamente queste tecnologie e nel fare e quindi imparando facendo anche avere un pensiero critico nel fare noi siamo ritrovati a parlare di pensiero critico e fine invece l'open design appunto apre un po' lo spazio a quello che è chiamato il fare critico e per questo nel corso del professore una tassella fondamentale era quello della prototipazione perché appunto mentre siamo ormai cioè le città ci hanno un po' allontanato da quelle che sono da quello che vuol dire produrre poi un artefatto un qualcosa per cui noi non potremo vivere altrimenti in quanto esseri umani secondo me abbiamo perso un po' quella visione cioè di quello che una cosa appunto un artefatto comporta e noi nell'open design abbiamo secondo me riscoperto questa cosa cioè una certa moralità anche nelle cose che facciamo che produciamo e penso che quello sia la cosa più importante nel tema delle città secondo me si parla tanto di coprogettazione ora nel lancio che ci ha fatto lei mi è venuto in mente noi io stavo di fronte al Sermig praticamente all'arsenale della pace lì di fronte c'è una piazza che penso sia stata esatto sia stata progettata non mi sono poi informato più di tanto della cosa però abbiamo assistito a diciamo numerosi diciamo numerose faide fra chi la pensava in un modo e chi nell'altro tutte le volte tornava magari dall'università ne ho viste parecchie di queste cose quindi non sempre la coprogettazione poi porta a un effettivo stato d'animo sereno invece nell'open design non c'è solo la coprogettazione ma c'è proprio quello di lasciare aperto il risultato quindi il risultato e nelle città mi viene in mente un po' la creazione di spazi di spontaneità di cioè non progettare per forza la stabilità delle volte che penso sia un po' la anche l'obiettivo delle delle pubbliche amministrazioni però talvolta appunto lasciare libero spogo appunto a questi conflitti di cui ha parlato cioè penso sia il tassello che manca poi a un effettivo cambio anche di paradigma rispetto al tema delle città aperte grazie grazie dottor sì è molto interessante il tema del disordine noi quando abbiamo cominciato a lavorare a questo appuntamento siamo partiti da un volume che appunto poneva come poesito alla base nella modernità nella contemporaneità ci sono tanti flussi tutto più mobile tutto più fluido quindi pensare a una città che organizza in modo rigido questi flussi questa mobilità è ancora giusto l'ordine è ancora oggi più valido del disordine questo è un altro spunto che volevo mettere sul piatto chi vuole intervenire ancora siete coraggiosi non abbiamo non siamo dei mensuali avrete già dato l'esame mi ho rotto l'esame forza forza potete stessere in audizione vieni vieni anche io come Riccardo veniamo dallo stesso percorso e quindi sono anche incuriosito un po' per Efrem un po' perché non conosco questo mondo però come facciamo a coinvolgere persone che arrivano da diversi obiettivi o anche hanno diversi appunto finalità in uno spazio che può essere condiviso come fate ad essere sicuri che comunque siano stati presi in caso un po' tutti gli attori che possono gravitare attorno ad uno spazio o attorno ad un'altra cosa e se c'è un modo appunto per informare o se è proprio questo quello che manca di in primis la legge che ci ha comunque raccontato e anche lì un'altra curiosità velocissima in quel caso mi immagino che il voto di un certo per arrivare ad effettivamente decidere conti un certo numero di comunque opinioni concordanti e quindi anche in quel caso è il cittadino singolo che può intervenire ad alzare la mano o deve essere in più una pluralità in questo momento ok io farei ora rispondere di nuovo a Yolanda e a Fabrizio rilanciare anche su questi primi due interventi che ci sono stati e poi riapro alla sala con Yolanda tanto grazie perché sono stati giù di un intervento molto molto interesse in questi momenti parto dall'ultimo perché pone delle domande molto pratiche che come può dare una risposta in parte anche alle riflessioni più alle domande di Riccardo noi facciamo coinvolgere che noi facciamo essere sicuri di non perderci qualcuno per strada a fare in modo che siano tutte le voci allora una cosa che non va per niente di moda ma invece è bellissima e se voi imparate a farlo alla vostra vita cambia totalmente anche la vita privata adesso vi dico queste parole e voglio sapere se ci avete mai riflettuto è l'ascolto attivo qualcuno va e lo sapete cos'è l'ascolto attivo anche queste non va di nero non ce le insegnano a scuola meno male che ci sono queste occasioni qualcuno ha detto sì mi permetto di dire qualcuno ha detto sì chi ha detto sì non è perché è una studentetta forse ah ok allora che cos'è l'ascolto attivo è una modalità di ascoltare che ci permette di vedere il mondo a colori anziché in via al conero perché non vedo solo le cose che sono filtrate dalle mie fornici dai miei occhiali ognuno di noi ha delle fornici che sono deltate dal genere dall'età dall'identità dalla storia dalla cultura eccetera eccetera dal proprio punto e se vogliamo capire cosa succede in uno spazio dobbiamo imparare a vedere le cose anche dalle fornici degli altri per fare questa cosa non basta ascoltare passivamente come un registratore che si dice ascoltare oggettivamente hanno bisogno di perlopria e cioè chiedere usando le proprie emozioni chiedere agli interlocutori di aiutarci a vedere le cose dal loro punto di vista e anche questo significa anche andare a fare dei giri insieme a queste persone non le chiediamo passeggiate di quartiere e si vede un mondo completamente diverso da quello che vediamo sulla mappa oppure dal CAD oppure da una telefonata se voi ascoltate attivamente quando arrivate in uno spazio la prima cosa che fate è ascoltare e nell'ascoltare le storie che mi raccontano le persone che incontrate vi fanno capire quali sono i tanti interessi che sono raggruppati in quella dimensione spaziale anche potenzialmente attraverso proprio le storie e tutte le volte si procede per germazione cioè io incontro una persona e questa persona chiede di dirmi chi altri dovrei ascoltare e a queste altre persone chiedo chi altri dovrei ascoltare io sono fatturella quindi anche chiedo chi altri non dovrei ascoltare perché negli ambienti ci sono specie dei leader naturali che più o meno rappresentano la collettività sempre immagino anche a scuola nei comitati studi e testi non sono sempre tutti veramente rappresentativi ma verso altre persone che sono più rappresentative e non hanno l'operato di parlare questa attività di indagine con l'ascolto attivo mi permette di andare a intercettare tutti i principali portatori e portatrici di interesse e non è detto che si riescano a intercettare tutti alle volte ce ne prendiamo qualcuno e viene fuori al momento sbagliato quando eravamo già arrivati a chiudere a continuare la questione di come si contano le preferenze invece è una questione importantissima perché noi dobbiamo distinguere fra i voti diciamo la democrazia rappresentativa usa i voti con tale preferenza dei leggeri rappresentanti nel metodo che noi in cui stiamo parlando non usiamo la democrazia rappresentativa ma quella deliberativa che significa costruiamo delle decisioni sulla base del confronto e degli argomenti quindi non conta tanto quante volte mi è detta una cosa ma il perché quella cosa è di per fare quindi anche quando si fa un dibattito pubblico un dibattito pubblico non serve a decidere se fare o non fare lo stadio se spostarlo o non spostarlo ma capire quali sono tutte le buone ragioni di punti di vista diversi da quello che ha progettato lo stadio e la decisione finale resta comunque un impacto al troppo lente perché diciamo sarebbe anche incostituzionale dire 150 cittadini hanno detto che questa cosa non va bene allora non si fa perché ci sono degli eletti che sono stati eletti da molti più centinaia migliaia di persone quello che però conta è il potere argomentativo cioè io ti spiego che se tu fai questa cosa qui in questo modo vai a chiedere dei problemi a questa comunità vai a tirare più traffico mi fai chiudere i negozi vorrei un disagio all'interno della comunità ti spiego le buone ragioni proponendo che appunto ci pensare meglio su come fare quel progetto quindi è un potere non decisionale ma argomentativo che si trasferisce sulla questione degli spazi non stabili ma flessibili è un'idea molto intelligente e nuova secondo me nel senso che purtroppo spesso gli spazi io lo dico da persone che anche lavorano in architettura è anche spenta all'ordine e non sono assolutamente capaci di progettare niente proprio facendo il tuo mestiere alle volte gli spazi sono progettati senza tenere conto lì e non tenono conto della flessibilità per gli usi anche in diverse fasce del giorno e della settimana quindi secondo me queste idee se voi le faceste proprie e immaginaste delle attività sicuramente tirate fuori delle cose più interessanti di quelle che sono di un progetto quindi lo vi incoraggio grazie io rilancio dicendo ma voi queste idee non le avete fatte vostre non ci sono iniziative di questo tipo o come progettisti in futuro cosa vi immaginate di poter fare in un mondo che si muove in una direzione è una provocazione che vi lancio e mi attendo delle risposte Fabrizio vuoi aggiungere qualcosa ma sì partirei dal tema del dell'ordine e del disordine in quanto docente universitario ovviamente io parto dall'assunto che si debba fare riferimento alla scienza quindi non entrerò nel merito di altre ragioni su cui si può basare il nostro pensiero in termini evolutivi io immagino non immagino io penso credo nell'idea che noi veniamo dal prodotto primordiale magari era più una minestra primordiale facciamo dei pezzi il DNA le proteine eccetera eccetera quindi noi nasciamo e conteniamo il concetto di disordine ne facciamo ne facciamo uso quotidianamente lo chiamiamo caso lo chiamiamo in mille altri modi però al di là di questa questa chiosa il concetto di disordine in quanto opportunità in quanto azione strumento con cui cogliere opportunità che non si sono colte prima e beh è un valore piuttosto importante per cui solo dove c'è uno spazio vuoto dove c'è una direzione mai percorsa dove c'è qualcuno dove un luogo dove nessuno è mai andato possiamo trovare davvero una trasformazione e allora la parola innovazione ha davvero un forte significato e diversamente non abbiamo nessun'altra possibilità che rimanere in ordine rispetto a direzioni già sperimentate che sono la coperta di Minus che ci tranquillizza ma ma dobbiamo accettare il fatto che oltre al di là di quella direzione non andremo perché decidiamo di andare in quella direzione che è già stata faccia per cui il valore del disordine lo trovo molto importante certo è che se il disordine poi va fuori controllo e poi può diventare addirittura anche nocivo quella è un'altra partita ancora però se per disordine intendiamo quell'idea lì io la sposo e personalmente cerco di fare esattamente questo tutte le volte che ad esempio entro in aula oppure mi capita di dover progettare rispetto alla partecipazione e quindi l'ascolto attivo di cui parlava Ionanda non tanto tempo fa con il cambio di direzione del nostro dipartimento sono stato coinvolto e chiamato a lavorare alla ridefinizione degli spazi degli spazi di lavoro del dipartimento ovviamente ho chiesto aiuto a colleghi e colleghe di posizioni diverse docenti tecnici amministrativi bibliotecari eccetera per poter capire come lavorare ma la prima cosa che abbiamo deciso di fare che ha lasciato un po' tutti basiti all'inizio è che siamo andati a vedere questi spazi abbiamo stiamo ancora andando a vedere stiamo parlando di cose che si chiamano Castello del Valentino Turino Esposizioni la sede storica dell'istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris ex Galileo Ferraris adesso Ingrim e quindi non luoghi non la casaccia o un magazzinaccio posti dove se Castello è una cosa di questo genere io non posso andare lì e prendere quella cornice basta quella cornice la togliamo oppure apriamo un buco perché no non si può allora agire su queste cose è già complesso di per sé indipendentemente dalle persone ma siccome invece sono le persone che ci serve ascoltare siamo andati ad ascoltarle e è sembrata una rivoluzione non ci potevano credere una sorpresa qualcosa che hai scoperto che prima non ti immaginano scusa faccio le domande a Ken purtroppo ci sono un sacco di spazi inutilizzati o utilizzati male ma anzi malissimo e quindi queste cose qua metteremo mano ma sarà un partito molto complesso per le questioni di cui si parlava prima quindi la partecipazione sicuramente sarà importante però e questo io lo dico sempre i migliori progetti partecipati non sono quelli in cui chiunque può dire qualunque cosa in qualunque momento indipendentemente dagli altri sulla base del principio di libertà individuale di esprimere la propria idea e chi se ne frega perché non funziona si chiama anarchia si chiama è un'altra cosa è un processo che funziona molto bene in certi ambiti ma che non porta dei risultati quasi mai a dei risultati effettivi io non lo dico sulla base di una mia convinzione personale ma semplicemente dall'osservazione empirica i quali siano siano stati e siano tuttora i migliori progetti aperti condivisi e partecipati sono quelli che si basano sulle cose che ci stiamo dicendo quindi la partecipazione la condivisione dei contenuti di le informazioni pregresse delle informazioni che si sviluppano e dei risultati finali in un percorso di condivisione continua dove mai nessuno si arroga ha il diritto di prendere una cosa in mano e tenersela per sé ma in questi percorsi c'è qualcuno che organizza che tira le fila raccoglie le informazioni e le le gerarchizza e le e permette a questi questi risultati di essere applicativi diversamente andiamo a dire lì e parliamo di tutto c'è nessun problema bene grazie mille sabrizio sala qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa come come ti chiami Luri Luri vieni qui portate voi gli appunti non è un problema ci si rivede ci si rivede la pizza è una pizzeria eh no l'osservazione che ho appunto forse appena risposto è che parlando di design partecipato parlando di design aperto buttandolo sull'architettura quindi traslandolo su questo concetto l'idea che mi viene in mente la prima cosa a cui penso è il senso d'appartenenza che secondo me è uno dei punti più importanti nel creare una città e quando ha parlato delle vele di scampia la domanda che mi è venuta è quanto questa riprogettazione di alcuni spazi possa creare un passaggio di senso di appartenenza quindi io che mi sentivo appartenente ad un determinato contesto il contesto cambia completamente e diventa proprietà di qualcun altro in un certo senso quindi questa cosa qua può essere un problema nella riprogettazione è una cosa che viene considerata o appunto quanto anche sull'influenza l'ascolto attivo delle persone essere cresciuti e vissuti in quei ruoli posso fare delle domande allora perché questa qua proprio io me l'ho segnata no? Eolanda se vuoi metterti qui magari ti sentiamo un po' meglio mi ero già segnata al termine appartenenza tutte le volte che Fabrizio diceva una parola chiave dell'office design io mi segnavo la parola analoga del mio campo della progettazione partecipata e lui aveva parlato di centrava con la proprietà intellettuale condivisa e io ho proprio scritto questo negli spazi urbani si traduce in appartenenza anzi due diversi termini appartenenza e appropriazione perché l'appartenenza è una cosa che viene dalla storia solitamente almeno negli spazi urbani l'appropriazione riguarda gli spazi nuovi ed è esattamente quello che dicevi tu Yuri nel fatto che nelle vele di Scampia è veramente impossibile ve lo posso garantire intervenire con un progetto di case nuove perché lì l'obiettivo è abbattere le vele non tutte ne resterà in piede uno la celeste perché diventerà un po' diciamo la sovrintendenza ha voluto tenerla come simbolo simbolo del degrado assoluto perché qualcuno di voi è stato alle vele e sono tanti anni che vado nei quartieri popolari ma come le vele non ne ho mai viste comunque una resterà in piedi le altre due vengono abbattute e vengono realizzate delle case nuove ovviamente il progetto delle case nuove che è stato fatto col grosso contributo dell'università di napoli dipartimento di urbanistica è stato fatto insieme al comitato di lotta delle vele comitato delle vele non vi immaginate un comitato con le signore che prendono col te sono persone che hanno tutte delle storie molto importanti e che conoscono la lotta e basta come sistema non è possibile tanto discutere lì esiste solo il muro contro muro o fai come dico io o qua non passi non entri noi abbiamo cominciato a usare il metodo dell'ascolto attivo e gli ha un po' destabilizzati questa cosa quando andavo in giro per le vele a fare le interviste col consenso di Omero Benfenati che è il capo del comitato di lotta che se voi digitate su internet Omero Benfenati è un personaggio è stato non so quante volte in televisione famosissimo allora io sapevo di avere una sentinella che mi seguiva cioè lui sapeva esattamente quando ero dov'ero questo per dirvi che non sempre è facile però il progetto delle case nuove è stato costruito insieme a loro affinché potesse avvenire questo meccanismo dell'appropriazione altrimenti non sarebbe stato assolutamente possibile quindi Giulia altri dubbi no grazie io lascerei la parola a Francesco Samorè che voleva aggiungere qualcosa in collegamento grazie Vincenzo grazie a tutti diciamo stimolante quello che ho ascoltato fino adesso mi abbraccio il concetto del disordine per dire alcune cose disordinate la prima noi parliamo da Milano diciamo Fondazione Bassetti in sede Milano e come voi sapete benissimo la città di Milano negli ultimi 10-15 anni ha subito delle trasformazioni ha subito o ha promosso delle trasformazioni molto grandi tante delle quali all'insegna diciamo per un verso del localismo direbbe del presidente Bassetti cioè di flussi che la trascendono ampiamente siano essi flussi finanziari movimenti di persone grandi eventi internazionali pensiamo all'Expo per altro verso per effetto dei processi di innovazione sociale che in alcuni casi si sono dati spontaneamente perché sono cambiati i modi di utilizzare le tecnologie perché sono cambiati i modi di per esempio distinguere la proprietà dalla condivisione tutto il tema della sharing diciamo dell'economia di piattaforma del condividere i mezzi di trasporto al posto per utilizzarli eccetera per altro verso per effetto delle leve dell'amministrazione poco fa credo Yolanda citava il tema delle leve in ogni caso il tema esiste la distinzione tra una partecipazione promossa dai rappresentanti quindi in generale dai poteri eletti istituiti nelle città e una partecipazione promossa dai broker sociali diciamo dagli innovatori sociali dai mediatori da quelli che organizzano la partecipazione sul territorio è una distinzione che esiste ma in alcuni casi in alcuni momenti virtuosi è una distinzione che si allevia cioè l'esperienza che mi sembra di poter testimoniare su Milano faccio degli esempi concreti per capirci il tema dell'ibridazione degli spazi con tutto il riuso dei mercati coperti il tema che prima in realtà stavano perdendo completamente di senso sia come mercati sia come luoghi il riuso di spazi industriali tutti voi sapete che Milano è una città che negli anni 70-80 aveva ancora l'industria poi l'industria non c'è stata più e è subentrato il terziario i luoghi dell'industria sono rimasti e esempi per chi frequenta la città come base Milano cioè l'ex San Saldo che oggi ha una funzione un utilizzo tutto diverso sono stati promossi con la partecipazione dell'amministrazione ma con il protagonismo di soggetti non eretti cioè innovatori sociali per semplificare molto questo mi sembra un tema centrale nella vostra discussione e anche per avvicinarla alla nostra discussione su cui dico soltanto le due parole cioè al tema che Fondazione Bassetti affronta molto è quello dell'impatto delle innovazioni sul modo di vivere insieme sul modo di convivere sul modo di gestire anche il potere mi ha interessato tantissimo quello che diceva Fabrizio all'inizio perché mi sono ricordato quando Fondazione Bassetti nel 2013 quindi ormai siamo più di dieci anni fa portò una carovana a San Francisco a discutere con Chris Anderson che ha scritto Makers The New Industrial Revolution Del Doverty i creatori del movimento dei Fab Lab Singularity University ma chi è che portavamo l'app e c'era il presidente Bassetti che poi eventualmente potrà dire ancora meglio portavamo artigiani italiani che si domandavano come la tecnologia additiva le stampanti 3D che stavano arrivando le laser cut avrebbero cambiato la loro vita e soprattutto si avrebbero mantenuto la loro vita per cui immaginatevi il confartigianato che va a incontrare i makers a San Francisco diciamo nella bocca del leone e si sviluppa un dialogo fra loro all'insegna di che cosa significa di poter diciamo innovare con bellezza ma intanto continuare ad esistere quella fu una discussione interessante e vado verso la conclusione perché è rese abbastanza evidente quando in Italia si stava soltanto iniziando a parlare dell'impatto delle tecnologie diciamo open anche nel modo di produrre rese abbastanza evidente come questo fosse un tema che ribaltava un po' la piramide del potere cioè allora dicevano se Ford dicevano tutti i colori pur che sia nero nell'economia che stava venendo su quella aperta quella digitale quella della nuova minifattura era la domanda di tutti i colori che generava il mercato e che idealmente iniziava addirittura a controllare i mezzi di produzione li decentralizzava li spostava dalle grandi fabbriche allora il tema naturalmente non è che nel frattempo sia stato risolto però è molto interessante il fatto che nel frattempo per esempio sia intervenuto il covid e come veniva ricordato tutti queste reti lunghissime di cose che prima la globalizzazione precedente faceva nel mondo facendo finta che non ci fossero i luoghi e tutto potesse essere prodotto altrove poi commerciato poi ha dimostrato che questo non era più tanto vero per cui tutto il tema del reshoring tutto il tema della produzione che poteva essere decentrata allora finisco cosa c'entra questo con diciamo il tema che secondo me è quello fondamentale cioè di chi gestisce il potere e di come si fa a non escludere dall'esercizio del potere gran parte delle nostre popolazioni di chi abita le città di chi abita i luoghi che non sono in città perché tutti sapete della vendetta dei luoghi che non contano e tutto ciò che non avviene nelle città dove si concentra tecnologie, capitali, finanza conoscenza o spesso assorbe quello che c'era altrove e i luoghi che c'erano altrove rimangono o spopolati o impoveriti allora io diciamo per lasciare una provocazione direi che in fondazione cerchiamo sempre di ricordarci quello che scriveva Carl Schmitt nei dialoghi sul potere diciamo negli anni 50 diceva diceva va bene i luoghi del potere l'anticamera del potere famosa formula che noi utilizziamo perché la utilizzava Carl Schmitt ma all'impotente invece direi non credere di essere buono solo perché non hai il potere cioè come è stato ampiamente evocato secondo me nei vostri interventi oggi siamo di fronte a un mondo che distribuisce moltissimo il potere grazie alla tecnologia grazie al fatto che diciamo è anche avanzato il tema dell'uno vale uno diciamo però ci propone esattamente questo problema cioè quelli che volevano aprire i luoghi della rappresentanza come una scatola di tonno poi si sono resi conto che non è esattamente l'operazione più virtuosa da fare perché non produce l'effetto desiderato e invece mi sembra che le esperienze che vengono testimoniate innanzitutto dai nostri due di scassa di oggi dicano che tentare processi deliberativi tentare processi di partecipazione ben consci del fatto che questi includono i conflitti richiedono mediazioni e devono interessare anche i poteri istituiti è una strada più difficile ma da percorrere e devo dire per quello che riguarda la nostra fondazione noi l'abbiamo fatto molto soprattutto sui temi dell'innovazione tecno-scientifica perché credo che pochi di voi lì abbiano sentito la formula Responsible Researching Innovation ma la responsabilità dell'innovazione che è la missione della nostra fondazione in realtà è un modo nel quale in Europa nel mondo si è iniziato a costringere anche le istituzioni istituite le regioni l'Europa stessa le città a coinvolgere i cittadini attraverso strumenti deliberativi citizen jury quando si tratta di decidere su temi innovativi e controversi che iniziano ad essere sempre di più e che richiedono sempre più strutture quindi questa era la mia testimonianza e vi ringrazio per la vostra grazie Francesco e vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti